Allora Roberto, c'è chi vince una lotteria, c'è chi vince un regno, giusto? Chi è? Chi può essere? Daphne Böll, che è appena stata riconosciuta, figlia biologica dell'ex re del Belgio Alberto II. E allora? E allora, a seguito del test del DNA del film, insomma, è la figlia della baronessa Sibyl... Qual è la baronessa? Ma era l'ex amante del sovrano, capito? Ma ce l'avrà un nome, Sibyl, non Champs. Lo Champs. Allora, meno male che c'è il nostro avvocato, Angelo Maietta, che le sa tutte, che ci aiuta a capire. Adesso la signora Delfin, che è una principessa a tutti gli effetti, giusto? Quella che io avevo chiamato Daphne, ma in realtà è Delfin, è principessa a tutti gli effetti. Patrimonio compreso? Beh, aver acquisito lo status di figlio, assolutamente sì, gli dà diritto a tutte le garantigie che sono dei figli. Adesso stiamo per dirle che lei diventa principessa, quindi sarà ricca, va al patrimonio, deve stare attenta a non sperperarlo, o possiamo essere felici? Se è davvero ricco diventerà ricca, altrimenti erediterà tutto ciò che era del re, quindi onori e doneri, anche eventualmente debiti, non è detto che... Non penso che erediti debiti, almeno questo. Però assolutamente sì, è figlio a tutti gli effetti, quindi avrà tutte le garantigie dei figli, perché l'accertamento dello stato di filiazione assolutamente porta quel tipo di diritti. Ma in Italia come funziona? Io e Valentina credessimo di essere figli di qualcuno, di importante, come potremmo fare? Esiste l'azione di accertamento della paternità. Noi siamo certi, eh. Noi in Italia abbiamo assolutamente una certezza, quella che è della madre, almeno ad oggi. La paternità può essere accertata... Il DNA è uno di questi, però vorrei sottolineare un dato, perché molti pensano che il DNA sia la madre di tutte le battaglie. Non è esattamente così, perché il DNA è obbligatorio soltanto nel diritto penale, cioè il giudice lo può ordinare soltanto nei giudizi penali. Nel giudizio civile è una componente della prova per l'accertamento della paternità. C'è bisogno di altri indici, anche perché noi parliamo di compatibilità del DNA. Questo cosa vuol dire? Che io posso avere una compatibilità genetica con una determinata persona, ma se con questo non ho mai avuto alcun tipo di relazione, non ho avuto una vita sociale, frequentazioni, non solo per questo io posso essere padre. Dunque ricordiamo che il Re Alberto si era sempre rifiutato di fare il test del DNA. Sai cosa l'ha convinto? Che avrebbe dovuto sborsare 5.000 euro al giorno in caso di rifiuto? Sì, allora questo per la legge diciamo belga. In Italia non c'è. Non c'è? No. Il rifiuto però può essere considerato dal magistrato un indice della serie. Se tu sei in buona fede e non hai nulla da nascondere, qual è il motivo che ti sottrai? Ed è nel giudizio civile, attenzione. Nel giudizio penale invece io sono obbligato, perché magari c'è un accertamento di un delitto, la prova genetica, la prova sul DNA è assolutamente sovrana. Ma se uno ha dei dubbi, come fa? Ad esempio lei somiglia a Dan Fribogart, avvocato, no? Se lei avessi il dubbio in qualche modo di... Propongo un'azione in tribunale di accertamento, di riconoscimento della paternità che ricordiamolo è imprescrittibile per il figlio. Diventato maggiorenne può esercitare in Italia questo tipo di azione e deve andare a provare con una serie di indici, anche col DNA. Ma si deve dimostrare che mia mamma ha frequentato quel tipo di attore per un certo periodo o è stata la sua governante, ce ne sono dei casi. Eh, ci sono dei casi, adesso c'è il figlio, è uscito fuori il figlio di Carlo e Camilla, lì ci sarà da vedere. Comunque, Humphrey Bogart si è spento nel 57 e non ci sono i tempi. Anche se lei assomiglia molto ad Humphrey Bogart. Mi ho fatto un complimento. È giusto che sia, è giusto, è giusto.